Non ancora asfaltata con tavole di legno per coprire alla meno peggio le buche, fogne a cielo aperto da cui fanno capolino ratti, perdite di acqua e come se non bastasse rifiuti abbandonati. Versa nel degrado più totale la via Tumolieri, traversa di via Giuseppe Licata in pieno centro storico. La strada è interessata da lavori di riqualificazione ormai da diversi mesi, bloccati da marzo a causa del lockdown e non più ripresi. Un'arteria impraticabile. Diversi cittadini che nel percorrerla hanno persino perso l'equilibrio, riferiscono oggi alla nostra emittente. Apprendiamo che alcuni residenti che abitano lungo la via Tumolieri o tra i vicoli e i cortili attigui, in lago Ianni, spesso rinuncino persino ad uscire di casa per evitare di cadere. I filmati non rendono giustizia allo lezzo che la calure sala, scrive chi ci hanno oltrato le immagini che vi stiamo proponendo. La pazienza degli abitanti del posto ha un limite e da settembre è un crescendo. I topi che sbucano fuori dalle fogne non coperte impongono inoltre ai residenti di chiudere anche le finestre. A questo si aggiunge la perdita che disperde lungo la strada acqua che dovrebbe raggiungere le abitazioni. Una situazione dunque non più sostenibile. I cittadini chiedono a gran voce che i lavori vengano ultimati il più presto possibile, alla luce della grave situazione genico-sanitaria venutasi a creare. Passiamo adesso alle perdite idriche che nella rubrica delle vostre segnalazioni non mancano quasi mai. Oggi torniamo a segnalare una perdita lungo la via Verona, che a distanza di tempo si ripresenta. Già da alcuni giorni i litri di acqua si disperdono lungo l'alteria, lateralmente da un muretto che costeggia la strada. Anche in questo caso i residenti chiedono si intervenga con urgenza. Altra perdita segnalata nella vicina via Ovidio, arteria altamente trafficata poiché di accesso al quartiere popoloso della Perriera. Perdita che rende l'asfalto alquanto scivoloso. Anche in questo caso si tratta di un problema che si riscontra nel tempo e che si spera possa essere risolto definitivamente al più presto. Grazie. Grazie.